Nome? Andrea Ceccaroni. Anni? 40. Papà di? Giulia e Gaia. Da quanto tempo lavori in VEM? 20 anni. Con quale ruolo sei entrato e qual è quello che ricopri invece oggi? Disegnatore CAD, sono stato assunto come disegnatore ed oggi faccio il commerciale. Tre parole per descrivere VEM? Affidabilità, senso di appartenenza e solidità. Se dovessi tornare indietro rifaresti la stessa scelta di lavorare in VEM? Penso proprio di sì. Mi racconti in 60 secondi qual è il ricordo più divertente della tua esperienza in azienda? Quando sono stato assunto abbiamo fatto un lavoro, un cablaggio. Fisicamente una volta si posavano i fili e mi ricordo la prima volta che abbiamo fatto delle prese, le prese di cablaggio. Le cose sono andate malissimo, cioè praticamente le ho sbagliate tutte. Mi ricordo ancora quanto si arrabbiò Maurizio Camurani e Vittorio Valentini. Da quel giorno hanno detto basta, te non sei proprio adatto per fare i lavori fisici, manuali. Ti capita di incontrare i colleghi anche al di fuori dell'orario di lavoro? Sì, anche qui è una bellissima esperienza. Mi ricordo una bellissima uscita in montagna dove si è andati in un maso e ci siamo divertiti veramente un sacco. Perché VEM e non un'altra azienda? Perché è una bellissima palestra di vita dove veramente si impara a crescere e dove si impara a nuotare dove l'acqua è alta. Grazie. 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 Grazie.